Il comune di Venafro potrebbe rientrare tra gli enti destinatari dei finanziamenti del CIS, il contratto istituzionale di sviluppo. L'indiscrezione, trapelata nei giorni scorsi a mezzo stampa, prospetta la possibilità, tra virgolette, di ripescaggio del comune di Omedeo a seguito dell'esclusione di una serie di progetti inizialmente ammessi al finanziamento. Stamane abbiamo contattato esponenti della Giunta e, a stretto giro, lo stesso sindaco Alfredo Ricci nell'intento di saperne di più. No comment, l'unica risposta. Tale chiusura è legata al fatto che, al di là dei rumors, al momento l'amministrazione civica non ha ricevuto alcuna notizia, né ufficiale né ufficiosa, circa l'inserimento di Venafro nel progetto. Stando così le cose, comprensibile la cautela di quanti abbiamo contattato. Sarebbe infatti davvero un brutto colpo, anche in termini di immagine, sia pure solo ipotizzare un risultato importante per la città, salvo poi essere smentiti a distanza di qualche giorno. Peraltro Ricci non ha mai voluto commentare la vicenda della clamorosa esclusione, limitandosi solo ad affermare di continuare a lavorare pancia a terra per il reinserimento in extremis di Venafro nel progetto. Intanto, venerdì 11 ottobre, il premier Conte sarà a Campobasso per la definitiva ratifica del CIS. In quell'occasione, la possibilità di far luce su una vicenda che tanto interessa i venafrani, poiché consentirebbe la realizzazione di importanti interventi di riqualificazione del centro storico cittadino. Ma non è detto che ciò accada. Secondo indiscrezioni, infatti, il premier Conte potrebbe limitarsi alla sottoscrizione di un'intesa che non preveda in questa fase l'indicazione puntuale dei comuni ammessi al finanziamento. In quel caso, Venafro e i venafrani dovranno aspettare ancora.